Ci sono molte ragioni per scegliere Atlante Immobiliare. Siamo parte di un gruppo internazionale, con centinaia di agenzie in tutta Italia e oltre 5.000 agenti professionisti che operano in collaborazione. Se stai cercando la casa dei tuoi sogni, potrai scegliere tra le migliaia di immobili in tutta Italia e all'estero, rivolgendoti ad un solo professionista. Ricerchiamo per voi le migliori occasioni del mercato, dalla nostra banca dati con migliaia di immobili in vendita, con la ricerca in zona, avvalendoci di professionisti formati nella Remax University. Se invece vuoi vendere rapidamente e al giusto prezzo, studieremo per te un piano di marketing personalizzato. Vi solleveremo da tutti gli adempimenti burocratici, visure catastali, atti notarili, eventuali sanatori e certificazioni energetiche. Utilizziamo le migliori tecnologie per valorizzare la vostra casa. Servizio fotografico, video professionale, riprese con drone. Studiamo una strategia di digital marketing con pubblicazione su tutti i principali portali immobiliari a pagamento, sia in Italia che all'estero. Analizziamo gli spazi, le possibilità di ristrutturazione. Creiamo progetti di arredamento moderno e funzionale. Tutte iniziative volte a rendere la vostra casa unica, in un mercato che offre tantissime proposte, anche in asta e a prezzi molto scontati. Presentiamo il piano di marketing personalizzato solo a clientela selezionata. Trovata la famiglia interessata e analizzata la loro solvibilità economica, prepariamo il contratto preliminare. Eccoci giunti alla firma davanti al notaio. Venditori ed acquirenti si scambiano le chiavi. Una nuova famiglia ha acquistato con noi la casa dei suoi sogni. Scegli Remax Atlante se vuoi acquistare la casa dei tuoi sogni e soprattutto sceglici se vuoi vendere prima e al giusto prezzo. Atlante Immobiliare si trova in provincia di Brescia, ma operiamo in tutta Italia con i nostri specialisti di zona. Grazie a tutti.